I valori con i quali sia la mamma che il papà hanno cercato di indirizzare la nostra crescita, io penso che siano proprio intrinseci al suo esempio. Sono un po' portato sempre a ritornare alla lettera che il papà ha scritto alla mamma, quella che mediaticamente è nota come lettera al testamento, ma effettivamente il testamento è. Il papà scrisse parecchi anni prima di essere assassinato dicendo a mia madre dove vai crescere i tuoi ragazzi nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo sempre creduto. Abbiano sempre consapevolezza della propria responsabilità verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che ho io, dice lui, e verso il paese si chiami Italia o si chiami Europa.